Il pallone potrà presto tornare a rotolare a Catania. Il comune etneo sceglie il gruppo Pelligra per costituire il nuovo Catania, che giocherà nel campionato calcistico di Serie D. Lo ha stabilito il sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, in accordo con l'assessore allo sport Sergio Parisi e supportato dai dirigenti, dai funzionari della direzione sport e politiche comunitarie, dopo una comparazione tra i cinque progetti candidati a rappresentare la città. Il progetto Piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica e progetti di sviluppo, presentato dall'esperto commercialista Dante Scibilia, è stato ritenuto più adatto a soddisfare le aspettative della città in termini obiettivi di mezzi economici, patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale e sportivo. L'amministrazione Tnea, si legge in una nota, ringrazia sentitamente tutte le società partecipanti e i loro proponenti, Giovannone, Ferlito e Ileri Mascali, per la credibilità e la sostenibilità dei progetti presentati. Ciò è la dimostrazione che la nostra città, quando si propone in maniera seria, senza roboanti annunci, con richieste sostenibili e programmi realizzabili, riesce sempre ad attrarre imprenditori altrettanto seri e progetti concreti. La proposta adesso sarà inoltrata, così come previsto, dalle norme federali alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che si determinerà in merito. Inoltre, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del gruppo Pelligra, nei prossimi giorni sarà programmata una conferenza stampa in municipio per illustrare il progetto.